Compartendo di questi conoscimenti che sono fondamentali per poter vivere con la maggior conoscenza e il maggior benessere. Grazie, grazie Antonello. Io ti do il benvenuto qui in Trame di Luce e oggi continuiamo dove abbiamo lasciato, cioè parleremo del corpo mentale. Qualcosa è già stato detto? Sì, parleremo più dell'aura mentale e dell'aura causale, e quindi degli argomenti a loro collegati, che sono le forme pensiero e le vite passate. Benissimo. Si, nos comenta Antonello che, poi, vamos a reanudare, più o meno, da dove abbiamo lasciato la ultima volta. Sì, intanto, prima di iniziare volevo dire che, ecco, volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno scritto tanti commenti, è stata una bellissima emozione sapere che, insomma, quello che stiamo facendo è arrivato a così tante persone, quindi grazie. Antonello nos dice che vuole ringraziare tutte le persone che hanno ascoltato le trasmissioni anteriore, tutti i suoi messaggi, i suoi commenti, e che è stata una grande emozione poter vedere che abbiamo arrivato a tante persone, che abbiamo impattato in tante vidi. Sì, penso che queste informazioni siano importanti, come dici tu, per ridarci la possibilità di diventare creatori della nostra vita, co-creatori per lo meno. Cioè capire che abbiamo un ruolo in quello che creiamo. Sì, sì, nos dice Antonello che queste informazioni sono molto importanti per prendere conoscenza di che siamo creatori, o per lo meno co-creatori, di nostra vita, di nostra realtà. Allora, abbiamo parlato ampiamente dei colori dell'ora astrale l'ultima volta e delle anomalie dell'eterico, e come queste possono essere collegate alle malattie. O darci indicazioni precise sulle malattie. E adesso parleremo, in questa ultima puntata, dell'ora mentale e delle forme pensate. che sono un pensiero, che sono un argomento che influenzano la nostra vita in maniera incredibile, e spesso noi non lo sappiamo nemmeno. E qui oggi, in questo ultimo episodio di questa trilogia, parleremo dell'ora mental e delle forme pensamento, che sono factori che influenzano la nostra realtà di una maniera incredibile, e noi non lo sappiamo. Sì, allora, tutti ci siamo ritrovati in situazioni in cui ripetiamo degli eventi nella vita, ci sono degli eventi ciclici che si ripetono, possiamo magari cambiare città, o cambiamo lavoro, o cambiamo partner, però ci succedono situazioni in cui ci ritroviamo in una situazione di stallo, che sembra essere identica a quelle che già abbiamo sperimentato prima, da altre esperienze che abbiamo avuto precedentemente, con altre persone, in altre città. Quindi cambia lo scenario, cambiano gli attori, ma la situazione è la stessa. La sensazione è la stessa. упiltà in una situazione, la stessa. Anche possiamo aver cambiato in qualche momento in una situazione per la stessa. e possiamo aver cambiato da situazione, da lavoro, da parella, però d'alguna maniera sentimos che hai algo che si sta ripetendo. Può cambiare l'escenario, può cambiare gli attori, ma è come se il guion fosse sempre il stesso e si stia ripetendo, in situazioni e condizioni differenti. E questo è un tipico esempio di una forma pensiero che si ripete. Allora, cos'è la forma pensiero? Questo è un argomento enorme ovviamente, però noi diamo un'introduzione. Per dirla in parole povere, la forma pensiero è una credenza, è una credenza che nasce da un'interpretazione della realtà. Che è una forma pensiero? Questo è un tema enorme. De hecho, Antonello lo desarrolla in sus cursos, in sus formazioni per terapeuti e semmi, però per essere molto puntuali potremmo dire che una forma pensiero è una credenza che si desarrolla a partir di una mirata che abbiamo, una certa interpretazione che diamo della realtà che viviamo. Perché? Perché soprattutto nell'infanzia assistiamo a degli eventi che non riusciamo a comprendere, no? Magari ci sono delle cose che ancora siamo troppo piccoli per capire e nessuno ce li spiega, perché nella nostra società i bambini sono considerati un po', capito, come se non potessero capire, no? E allora non abbiamo altra scelta che dare una nostra interpretazione personale di ciò che abbiamo visto. questo si può collegare con le esperienze che viviamo nella nostra infanzia e con il fatto che quando siamo noi, viviamo esperienze, esperimentiamo situazioni, però nessuno ci explica che sta passando, che stiamo vivendo, perché nella nostra società generalmente c'è una concezione molto limitante di noi, se considera che non possono entendere che non vale la pena explicarle cose. Quindi noi non abbiamo altra scelta che dare la nostra interpretazione dei suoi 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 che stiamo vivendo. Gli esempi potrebbero essere tantissimi dall'assistere magari ai nostri genitori che litigano o a una parola detta di nascosto e che noi diciamo, uno può pensare perché non parla apertamente e deve dire di nascosto, forse c'è qualcosa contro di me, forse ho fatto qualcosa di sbagliato. Uno comincia a crearsi tutto un film nella sua mente. alcuni esempi possono essere il fatto che possiamo assistire a discusioni, affrontamenti o pelea tra i nostri parenti, o anche possiamo vedere che qualcuno dice qualcosa in voce bassa, quindi come non abbiamo il contesto per comprenderci che sta passando, come se fosse, a lo oppure qualche evento che per noi può essere traumatico ma che in sé non lo è, come per esempio, non so, due i genitori devono partire per un viaggio e devono lasciare il figlio e il bambino dai nonni, per esempio. anche possono essere circostanze che per noi, per noi, per noi sono traumatici, ma in realtà non lo sono, come per esempio il fatto che i bambini devono andare a un viaggio, quindi per questo necessitano lasciare il figlio o la bambino con i bambini. E magari non spiegano perché, è una cosa magari di urgente, è successo qualcosa alla famiglia di, non lo so, di lui, sto inventando, che magari vive fuori e allora devono andare via per tre giorni. Sì, a lo mejor non è nada grave, però può essere qualcosa che abbia accaduto di repente, a lo a lo mejor il papà tiene su famiglia lejana e hanno bisogno di ascoltarla per alcun motivo, anche se non sia nada grave o preoccupante, però i bambini non spiegano al bambino perché devono andare. E quindi, quindi l'evento è questo, i genitori devono partire e ci sono i nonni che si occupano del bambino. Il successo è, simplemente, che i bambini hanno bisogno di farlo, hanno bisogno di viajare e lasciano al bambino con i bambini. Ma, in base all'interpretazione del bambino, alla sua storia personale, alle sue ferite... Però, a partir della interpretazione che il nino dà di questo successo, della sua misma storia personale, delle sue ferite... Questo cambia tutta la storia, perché tutta... Per esempio, un bambino potrebbe essere felice dei nonni. Dice, ah, che bello, vede una cosa nuova, è curioso della nuova casa, di passare il tempo con i nonni. I nonni lo portano al parco a giocare ai giochi. Quindi vive tutto sommato una esperienza bella, soddisfacente. Nonno, nonno, nonno. E' un altro bambino. Nella situazione di nonni, nonno. Nonno, nonno, nonno. Per esempio, il bambino può vivere questa esperienza come qualcosa molto placentino. Può sentire la novedura, la felicità di stare con i bambini, stare a un nuovo lugar, a lo mejor i bambini lo fanno al parco, puoi giocare insieme, e lui è contento. E' un altro bambino. nella stessa situazione identica invece può andare in panico e dire, oh ma perché mi hanno abbandonato mi hanno lasciato qui, forse ho fatto qualcosa che non andava fatto e comincia a sentirsi in colpa, comincia a sentirsi abbandonato e comincia a stare male e a non vivere l'esperienza in modo piacevole un altro bambino invece può per cui mi hanno lasciato qui magari ho fatto qualcosa o magari ho fatto qualcosa che mi hanno abbandonato perché mi hanno abbandonato si può sentire colpa si può sentire che lo abbandonato e quindi può sentire che ho fatto qualcosa si può sentire che ho fatto qualcosa equivocato che commettò algo tan grave che lo llevò che llevò a los papás a abbandonarlo e por eso vive l'esperienza de una forma no placentera come podría ser de una forma dolorosa e poi nella sua vita questo bambino cresce e in base all'interpretazione che ha dato incontrerà degli eventi simili che ripetono questa ferita che vanno a toccare la stessa ferita ovvero troverà delle persone dei partner che magari lo abbandoneranno o quando magari è in compagnia e poi la gente se ne va all'improvviso e lui resta solo a casa si sentirà quella sensazione di abbandonamento cioè di abbandonamento in italiano sì diciamo che questo successo va a generare un antecedente di interpretazione di lettura della realità e quando il nino crece e si encuentra in situazioni per le quali per esempio sta in una relazione di pareja questa relazione se rompe o simplemente sta in casa con amici e questi amici si vanno o cose parecite questa persona la va a vivere come un'esperienza di abbandono e questo perché perché tornando alle aure tutto questo discorso per tornare alle aure nell'aura mentale si trovano queste forme pensiero che queste forme pensiero sono proprio non sono dei pensieri normali ma sono proprio delle creature sono come delle piccole cellule queste credenze che abbiamo detto prima che si creano nell'aura mentale e racchiudono l'esperienza traumatica che noi abbiamo vissuto tesoro vuoi che mettiamo le prime immagini per dare il contesto e poi ripeto quello che tu mi hai detto Paco per favore potresti mettere la prima immagine e a chi podemos sì l'aura mentale è quella ovoidale che vediamo è come un uovo e sta insomma arriva fino a due metri e mezzo dalla dal corpo fisico quindi è molto lunga e a volte può sobrastare anche le emozioni ecco l'aura astrale l'aura mentale è la che sta in medio tiene una forma oval e e llega a medir ma di due metri e a volte può essere diciamo può essere più ampia che la che la emozione ma tener più peso più 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 che la emozione si e allora che succede perché se no ci confondiamo laura questo quando noi interpretiamo qualcosa di forte che noi viviamo per noi è un trauma un trauma c'è un pensiero ricorrente che nel caso di quel bambino può essere ho fatto qualcosa di male quindi forse non merito oppure non valgo abbastanza mi hanno lasciato qui insieme ad un'emozione quindi un pensiero è un'emozione molto forte insieme che può essere la tristezza per l'abbandono e queste due l'emozione e il pensiero creano una cellula a livello sottile che va nell'aura mentale e comincia a crescere quindi che succede quando viviamo una esperienza che subiettivamente percibiamo come dolorosa e traumata c'è un pensamento un pensamento molto forte significativo che nel caso del esempio che diciamo può essere il fatto che il nino pensi che hice hice qualcosa malo hice qualcosa che ocasiono che mi abbandonano o non merezco che mi abbandonano non merezco che mi abbandonano conmigo però questo pensamento si va a sumare a una emozione una emozione forte che sta conectata con il pensamento per esempio la tristeza potrebbe essere e questa summa di pensamento e emozioni conectate va a generare una una pequeña cellula che las contiene e che si va a collocare in nostra aura mental poi questa cellula cresce e diventa proprio una creatura e a un certo punto diventa così forte che comincia ad attirare nella nostra vita eventi simili a quelli che l'hanno generata in modo che noi possiamo provare gli stessi pensieri e la stessa emozione perché si nutre questa creatura si nutre di questo pensiero negativo chiaramente e di questa emozione negativa con il passo del tempo e delle esperienze questa piccola cresce in nostra aura mental e si vuelve un ser una creatura che tiene il potere il potere la fuerza di attraere di generare esperienze parecine esperienze che generano emozioni e pensamenti analoghi a quelli che la hicieron nascere perché questo ser questa creatura si nutre di questi pensamenti e quindi senza che noi ne siamo consapevoli perché nessuno purtroppo ci spiega queste cose veniamo condizionati enormemente da questa creatura che a un certo punto diventa autonoma e comincia ciclicamente ci sono dei cicli ben precisi con cui fa accadere nella nostra vita delle situazioni che ci portano a essere invischiati nella stessa emozione nello stesso pensiero che quindi ci porta a stare male e chi non si explica che ci succede no però lo che sta succedendo è che questa entità è che che abbiamo creato è che in nostro campo aurico mental si vuole sempre più forte e ciclicamente con ciclos exactos e precisos con certos ciclos specificos empieza a attraer esperienze analogas che hacen che nosotros provemos las mismas emoziones che pensemos los mismos pensamientos que nos generan dolor nos reviven el dolor del trauma il punto è che non ci accorgiamo che questi eventi li abbiamo già vissuti per noi in quel momento è un'esperienza nuova allora uno può pensare la vita è ingiusta oppure perché questo sta accadendo a me di nuovo quando io vedo le persone e faccio questo collegamento con gli eventi passati le persone si rendono conto rimangono scioccate perché non si rendono conto che stanno rivivendo la stessa storia pensano di aver vissuto varie esperienze nella loro vita ma che sono scollegate tra loro invece no una cosa muy importante è che generalmente in nostra vivenza visto che non sappiamo che questo occorre questo ripetir in realtà lo viviamo come una serie di sucessos che non sono encadenato entre si relacionato entre si quindi possiamo arrivare a pensare perché sempre eso me passa a me o perché la gente è così è injusta però non abbiamo la conscienza di che tutto sta enlazato in una cadena di relazione precisa e dice Antonello che generalmente quando il trabaja su trabajo terapêutico si dà cuenta che le persone non non hanno concienza di questa relazione forte e profonda si per molte persone già questa cosa il capire che tutto collegato dà un via a un processo di cambiamento e di guarigione para muchas personas tomar concienza che hai esta conexión ya es un hecho sanador porque activa un il processo de sanación è importante capire come funzionano quindi le forme pensiero adesso ripeto questa è un introduzione però consiglio a tutti il libro di Angie Vaudan Forma e Pensiero credo ci sia anche in spagnolo quindi perché spiega molto bene questo processo sì noi noi pensiamo noi quando succede qualcosa reagiamo a qualcosa no cioè se qualcuno ci dice una cosa che va a toccare una ferita va a toccare quella ferita lì noi reagiamo possiamo arrabbiarci possiamo essere scoraggiarci andare tristi deprimerci o possono succedere tante cose no nella reazione quando noi reagiamo a qualcosa vuol dire che stiamo seguendo lo schema delle forme pensiero quindi che non siamo noi ma che siamo condizionati da queste cose successe tempo prima un aspetto importante tenendo in considerazione che solo è una introduzione perché è un tema molto profondo non lo potremo agotare qui però quando hai successos esperienze che vanno a toccare questa forma pensamento lo che occorre è che nostri 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 reaccioniamo reaccioniamo de forma automática sin darnos cuenta che stiamo nos estamos conectando con questa esperienza originaria con la esperienza automática entonces non somos nosotros nosotras che libremente elegimos come gestione la situazione sino siamo siendo moviti actuati con la forma pensamento conectada con la esperienza traumática originale e finché reagiamo siamo vittime della situazione e quindi c'è sempre qualcun altro che è colpevole qualcuno che ha fatto qualcosa qualcosa che è successa non ci prendiamo la responsabilità della nostra storia non la vediamo in quel momento e e hasta che questo succede sempre hai alguien che è culpable alguien che ha ocasionato nostro malestar alguien che nos sta facendo sufrir e entonces no podemos tomarnos la responsabilità de nuestra storia non la estamos viendo e la responsabilità proprio in inglese response responsibility l'abilità di rispondere vuol dire proprio l'opposto della reazione perché la reazione è una cosa automatica tu non te ne rendi neanche conto invece l'azione la risposta è qualcosa che tu ti rendi conto di quello che sta succedendo e fai qualcosa riguardo te ne assumi la responsabilità e di no abilità di rispondere non respons ability e quindi cambia la storia cambia la situazione e il termino responsabilità bueno tambien in espanol Antonello nos sta haciendo l'exemple della palabra in inglese pero tambien in espanol se conecta con la capacità de saber risponder al successo no reaccionar sino risponder che es algo completamente diferente porque cuando nosotros podemos pasar de una reacción automática a una respuesta consciente ya estamos cambiando completamente el camino de nuestra vida obviamente es un proceso graduale all'inizio dobbiamo osservarci e osservare questi meccanismi automatici che succedono e allora io parlo nei miei seminari parlo sempre di introdurre nella nostra vita qualcosa che io chiamo inner life hygiene che vuol dire l'igiene della vita interiore chiaramente questo è un processo è un processo gradual e necessitiamo partir da osservare osservare a detectare a descubrire che stiamo reaccionando e lo che sta succedendo e Antonello quando hable di di tema in su seminario habla di una higiene interiore si un higiene interiore nel senso che noi siamo abituati all' higiene fisica lavare i denti a fare la doccia a lavarci le mani se tocchiamo qualcosa ma non abbiamo mai nessuno non ci abbiamo mai neanche pensato a pulirci a fare attenzione a prenderci quello che accade internamente si es una verdadera higiene perché todos tenemos hábitos di limpieza nos bagnamos nos lavamos los dientes nos lavamos las manos pero nadie nos ha enseñado a tener hábitos de higiene interior a limpie lo que vivimos e inizi introdurre nella nostra vita anche cinque minuti al giorno dedicati all'osservazione di cosa succede per esempio in questa giornata oggi quella persona mi ha detto questa cosa mi sono così arrabbiato perché allora vado la sera e analizzo cerco di capire cosa è successo cosa si è mosso dentro di me cosa cosa mi ha ricordato quell'evento cosa che ferite è andata a toccare che sta succedendo dentro di me che pensiero ha avuto nella giornata quindi podernos dar anche sia cinque minuti nel dia per sentarnos tranquillamente darnos un espacio per osservare e dicir per esempio oggi esa persona tal persona me irritò no però che fu podernos osservare e ver che fu lo che movio en mi a che situazione me remite mi sta ricordando algo che emozioni che pensamientos che ricuerdos che sensazioni ha generato e a volte c'è bisogno ovviamente di un aiuto esterno tipo di un terapeuta o qualcuno che legge Laura per riuscire a capire l'origine di alcune forme pensiero perché le forme pensiero nascono nei primi sette anni di vita a volte anche prima della nascita però poi durante la vita da adulti continuiamo a creare forme pensiero analoghe che si posizionano come in una catena di forme quindi possiamo fare questa lavor per noi mesmos però in alcuni casi è necessario acudire a un especialista un terapeuta e per esempio un terapeuta che conoscere la capacità di leggere laura e poder ver estas formas pensamento perché noi generiamo formas pensamento durante los primeros siete años de nostra vida de cero a siete años y después ya de allí en adelante vamos a generar otras que se relacionan a las primeras entonces se generan verdaderas cadenas de formas pensamientos que se conectan desde las originales y se van multiplicando con el tiempo si poi la forma pensiero en la hora ha una posizione una forma pensiero dei colori o contiene delle immagini anche dentro lo so che sembra strano contiene delle immagini a volte come proprio un piccolo film un piccolo clip da un film e quindi tu puoi vedere la scena che l'ha generata e quando se realizza una lectura dell'aura è possibile ver estas formas pensamientos e ver por ejemplo imágenes o o hasta escena come pequeños videos che reproducen la circunstancia che la han generato e quindi ci sono degli eventi che magari la persona ha dimenticato nella memoria ma che tu puoi vedere e riportarli lì e quindi le persone rivivono quella scena e capiscono l'origine anche di alcune malattie o problematiche che si ripetono nella loro vita si perché a volte dimentichiamo e quindi tu lo vedi specificamente io posso riportare degli esempi con i miei pazienti per esempio una volta ricordo per la prima volta che ho visto una forma pensiero e non ero neanche durante una sessione di terapia ero vivevo a Roma in quel periodo e abitavo con insomma dei coinquilini ed eravamo ero seduto con questa ragazza di fronte a me lavorando al computer lei lavorava di qua io lavoravo di là insomma e così guardando distrattamente ho cominciato a vedere mi si sono aperte tutte le aure e ho cominciato a vedere una forma pensiero che non sapevo a quei tempi cosa fosse e e nos sta compartendo Antonello un'experienza en sus primeras etapas terapéuticas vivendo vivendo en Roma e compartendo departamento con otras personas estaba trabajando en la computadora e tenia enfrente una rumi una compañera de departamento e mirando hacia ella de forma distraída ha empezato a ver las distintas auras e a un certo punto se desplegò una immagine che era una forma pensamento che in ese momento no supo come riconoscer o distinguir no ma non ero neanche un terapeuta non sapevo nulla sapevo poco di queste cose quindi ho visto una cosa un evento intimo della vita di questa persona e mi sono imbarazzato e avrò cambiato faccia perché lei mi ha detto a un certo punto mi fa che succede sei diventato bianco e non volevo dirglielo e lei ha insistito e allora gli ho detto cosa ho visto ok mi sembra importante quello che dici che ancora non eri un terapeuta no perché queste cose cioè quando uno è terapeuta non è che comincia a vedere le cose che vivono tutti quanti no questa è una cosa molto importante per assicurare i nostri ascoltatori su Brian Tonello che questo succedio antes di che si formato come terapeuta aveva a lo mejor aveva conoscere a leer los libros de Anne etc de Anne Givaudan e vio una imagen de una escena íntima de esa persona e eso le ocasionò pena lo puso en dificultad la amiga se dio cuenta e perché Antonello cambiò d'expressione e insistió tanto para que se lo contara él no quería contárselo pero al final acabo contándoselo pero lo que yo estaba subrayando es que miren esto justamente sucede antes de que uno tenga una formación terapéutica porque es un don que se puede desplegar naturalmente la formación hace que uno aprenda también a cerrar estas capacidades osea no es que vamos viendo las auras y las formas pensamientos de todas las personas que están con nosotros no absolutamente no hay un respeto de la privacidad de cada quien abre un canal en el momento en que debia no es así espontáneo si se aprende parte de la formación terapéutica es justamente aprender a abrir en una sesión terapéutica ese canal perceptivo y cerrarlo entonces por el resto de nuestras vidas actuamos como personas normales no nos metemos en la energía de los otros es importante decirlo si si comunque para la breve porque el tiempo vola como al solito y he visto un feto un feto de un bambino en formación y he revistido un periodo un momento de esta persona que ha un filho e ha abortido lo que él vio fue un feto vio la imagen de un feto y la energía en el campo energético mental de la persona y vio que esta persona había decidido abortar ese bebé que esperaba y ahora le insisteva le lo ha detto y le lo ha detto que le rideva dice ma cos es no dimmi dimmi sono curioso le ho detto questa cosa ovviamente si è messa a piangere e mi ha detto che nessuno sapeva di questo evento non ne la sorella lo ha fatto tutto da sola e esa amiga reia dice dime dime insistì ano e quando antonello così forzato le compartio lo che había visto entonces ella se puso a llorar perché nadie nadie sabía lo che había ocurrido nadie de sus amigos de sus familia le su hermana su mamá nadie en lo absoluto questo è un esempio ovviamente molto forte per me ma nell'ambito invece terapeutico la persona invece supportata e le informazioni si rivelano con una certa cautela e gentilezza e compassione cioè insomma c'è una guida insomma non è una cosa ti dico così claro questa è un' esperienza che non sta in un ambito terapeutico claramente no però in ambito terapeutico la informazione se comunica de forma empatica de forma adecuada al momento e alla possibilità di recepción del paciente perché può essere utile guarire delle cose di quella persona perché può essere utile per sanare cose importanti nel processo della persona antes di Antonello che si può conectare non solo con esperienze di vita emocioni pensamenti sino fondamentalmente con processi di salute grave per esempio possiamo vedere la seconda diapositiva presa dal libro di Anna dove va a vedere una persona malata agli organi genitali che questa malattia si sviluppa in seguito a un aborto vissuto male podemos ver la 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 siguiente immagine bueno esta è una immagine che teníamos la vez passada no l'altra è un'altra sì ma questa è questa è la la mentale diciamo del giallo insomma quando ecco questa l'anteriore stava la mentale in general con lo amarillo che sta conectando con la aura mental no mentre che la siguiente la tercera imagen hacia adelante podemos ver como se proieta la imagen de un feto che está conectado con ciertas patologías un feto che está conectado con la interrupción de embarazo che 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 se vivió mal e che ocasiona certas patologías nel seno e nel utero in questo caso si la persona aveva dei problemi al aparato genitale e facendo la lettura del aura si vedeva chiaramente che c'era questa storia non risolta legata ad un aborto vissuto male in este caso specifico la persona tenía afecciones problemas en el aparato genitale y haciendo la lectura del aura se pudo ver que estos malestares estaban conectados con esta vivencia poi le forme pensiero possono stare ci sono vari tipi di forme pensiero ecco c'è un altro libro quello che hai voluto tu che mettesi quindi possiamo vedere l'altra diapositiva possono avere forme e dei colori e luego podemos passare alla siguiente imagen grazie e ver che en lugar de imágenes especificas las formas pensamientos pueden tener formas y colores si per esempio il vago piacere intellettuale è proprio il tipico giallo dell'aura mentale l'aura mentale quando noi pensiamo tanto o siamo in un'intensa attività mentale c'è questo giallo anche dorato a volte se è positivo come tipo di attività o magari un giallo opaco un po' acido e se invece sono pensieri distruttivi o ossessioni possono cambiare insomma anche lì la qualità del colore la chiarezza dell'immagine dà un'indicazione di quello che stiamo vivendo vediamo per esempio il vago placer intelectual che tiene il clasico color amarillo dell'aura conectato con il pensamento dell'aura mental e che quando stiamo pensando qualcosa placentero llega a essere hasta dorato mentre quando hai pensamenti che sono dolorosi o destructivi può llegar a un amarillo acido quindi la qualità della esperienza del pensamento nos dà toni diferentes e colore diferentes si possiamo vedere in un'altra diapositiva ci sono altri esempi insomma questi sono tratti da un altro libro di questa medium dal inizio del novecento en la siguiente diapositiva podemos ver otros ejemplos de estas formas che se pueden ver en nuestra aura mental estos ejemplos los tomamos de un libro de un medium de inizio de 1900 ad esempio interessante la rabbia la furia perché a volte tu vedi en la hora vedi proprio dei fulmini rossi e quello è proprio una forma qualcosa legato all'arrabbiatura molto forte è incredibile che poi nei cartoni animati ci sia proprio questa rappresentazione in qualche modo intuitivamente lo sappiamo è dice antonello per esempio la representazione della furia è impactante perché si llega a ver justamente questo tipo di dibujo di raios raios in raios raios dell'aura mentale volevo anche nominare il fatto che l'aura mentale si divide nel mentale superiore e inferiore e podemos ya quitar la diapositiva come le decíamos eso solo si es una introduzione però si quieren pueden profundizar ustedes con estos materiales que le hemos sugerito con otros pero para concluir ese tema antonello nos invita a considerar que hay una distinción también en el aura mental hay el mental inferior y el mental superior si diciamo che come se fossero due piani vibratori diversi quindi quando siamo immersi la forma pensiero nella reazione nell'ossessività nella meccanicità del pensare allora sono i pensieri che ci controllano e quello è il mental inferiore che ci dice tante bugie la mente mente quando siamo in una situazione di reazione e i nostri pensamenti non dominano siamo nel mental inferiore quando stiamo in la obsesione in la victimizzazione e stiamo reaccionando non eligendo e la mente nos dice muchísimas mentiras in italia se dice la mente mente lo diciamo anche la semana passata ok possiamo togliere diapositiva nel frattempo e per esempio l'altra 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 parte del mentale superiore invece è un'aura più dorata più luminosa ed è connessa a un auto osservazione a un cambiamento di prospettiva quindi vedere le cose non solo con la personalità ma da un lato più alto che osserva quello che viviamo mentre che l'altra parte che è il mental superiore e che tiene toni dorati implica la capacità di auto per sé di autoobservazione di vedere con un'altra mirata e come un observatore lo che viviamo lo che sentiamo lo che sperimentiamo con una concienza differente ecco un ultimo esempio per esempio mi mi è venuta adesso in mente di un'esperienza terapeutica per concludere insomma l'esperienza della storia foro in pensiero per esempio qualche mese fa ho visto questa ragazza che è venuta da me per la prima volta quindi conoscevo malappena il nome e e mi parlava aveva dei problemi a livello genitale insomma importante e mentre parlava io cominciamo a vedere mi si è aperta tutta laura e vedevo questo enorme alveare dorato vedevo tutte queste forme sai l'alveare tipo nido d'api e non si sta compartendo otra esperienza clinica no no si sta dicendo che hace pocos mesi recibiò per primera vez in una session terapeutica a una paciente della qual non sabbia assolutamente nada a duras penas sabbia il nome e mientras estaban nel processo terapeutico se empezaron a abrir sus auras y se le apareció un la imagen de un nido de abejas dorado si e diventava sempre più intrecciato più e ad un certo punto io guardavo questa cosa e questa persona che non sapeva neanche che io leggessi laurea era stata mandata da me perché mi aveva insomma le avevano detto che forse poteva aiutarla col problema che aveva e allora a un certo punto mi fa scusa ma cosa stai guardando detto guarda vedo questa cosa io non non so perché la vedo però te la dico forse tu per te importante e le ho detto questa cosa lei rimase scioccata e mi ha detto cavolo che strano io ho vissuto tutta la mia infanzia con mio nonno che era un allevatore di api e questa paciente abbia sido remitida con con antonello perché tenia fuertes problemi a nivel genital e non sabía molto della pratica terapéutica di antonello non sabbia niquelia che leggere le era la saura quindi osservo che l'estava mirando e non a ella sino a su alrededor e le pregunto che stai mirando no e quindi antonello le dice che stava viendo este nido di abeja e che lo stava viendo complejizzarsi e in movimento no e quando se lo comparto ella le dico che raro perché io vivi tutta mia infanzia con mio abuelo che era che criava abejas si perché faceva il miele insomma e quindi loro andavano con lei andava con la famiglia ad aiutarlo a fare tutto il processo del miele la raccolta del miele lui le ha insegnato come camminare fra le api non essere punto eccetera si perché haciano producì a miel entonces con toda la famiglia viviano a apoiare al abuelo para cosechar la miel e il abuelo le abbia insegnato come hacer todas operazioni come camminare entre las abejas sin che la le picaran e ovviamente però poi lei mi fa ma è come questa cosa come collegata però il mio problema e io ho detto non lo so ancora ma lo scopriremo nella sessione dopo è uscito fuori il ruolo del femminile e quindi del ruolo del femminile nella 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 sua vita e quindi i problemi connessi alla ai problemi genitali quindi femminili e del ruolo dell'ape regina perché la regina che delle api e la femmina che capito è qui ovviamente con questo giusto in generale però questo è quello che è successo poi da lì abbiamo iniziato un lavoro eccetera e in questa circunstancia la paziente le pregunto per quello di esso che tiene che ver con il problema che tengo con lo che stai padecendo e antonio non le dico mira in questo momento non lo sappiamo però lo scopriremo quindi nella sessione la sessione si fu rivelando una conexione tra i sui padecimenti i sui padecimenti in su area genital con la relazione con lo femminile e con la interpretazione su vivencia della realità della sabbia e il ruolo per esempio della bella reina e questo fu un inizio di tutto un recorrido si questi sono vari esempi comunque infine insomma per concludere visto che il tempo è quello che è laura causale che l'ultima rimasta è quella che ci svela le forme diciamo le vite passate della persona e anche qui non è un atto di curiosità ma è qualcosa che è utile alla persona per capire l'origine di alcune malattie che magari vengono invece da vite passate in fin il aura causal è la che ci permette accettare a conoscere le vidi passate di una persona e questo non è per curiosità assolutamente si non è perché gli malestares fisici, mentali, existenziali che può essere vivendo la persona possono essere relazionati con queste esperienze passate sì e nell'aura quando si regge l'aura a un certo punto si vede che la sagoma della persona che sta al buio diventa proprio viene sovrapposta da un'altra figura che era questa persona nella vita passata e quindi si rivive la vita passata tu vedi le scene vedi tutto quindi durante la sessione il paziente sta a media luce e la sua figura si sovrappone la figura di questo personaggio che fu in un'altra vita e si vede la persona con queste caratteristiche si dà indicazioni precise sull'origine del problema che questa persona è venuta qui delle cose che questa persona è venuta qui a guarire questo permette di avere informazioni molto precise su quello che questa persona ha venuto a sanare in questa vita attuale, qualcosa che trae la storia della sua alma e che viene a sanare in questa vita sì faccio un esempio rapidissimo di questa ragazza che era venuta con dei problemi di mestruazione molto dolorose era venuta a fare delle terapie e le erano passate e poi dopo qualche mese di nuovo sono tornata allora abbiamo fatto una lettura del Laura e abbiamo visto che in tre delle sue vite passate lei aveva avuto un ruolo femminile di capo di una tribù in cui aveva dovuto prendere delle decisioni molto forti sacrificando il lato femminile e le qualità femminili per una questione di potere e capito questo ha guarito completamente il suo problema e ci hanno comparte un caso di una mujer che aveva avuto a consulta per avere delle sue mestruazioni molto dolorose e con i tratamenti durante un tempo aveva avuto migliori però poi volviò a empeorare quindi Antonello le suggerisce realizzare la lettura del Laura e allì pudo vedere che in tre delle sue vidi anteriore aveva avuto una mujer di potere e che in questa condizione di mujer di potere aveva avuto che renunciare a su lado femminile per affrontare le situazioni e il ruolo quindi per poter riconoscere questo si risolviò il malestar ecco questo diciamo giusto una cosa veloce però è importante poi ripeto invitiamo le persone ad approfondire e come sempre potete lasciare i commenti sotto il video eccetera questi sono detalli sono informazioni di introduzione perché sono temi enormi però se lo deseano possono mettere domande, commenti siamo qui per voi e possono buscare più informazioni con i libri che abbiamo suggerito grazie Antonello grazie a te è stato un piacere sì spero che anche questo episodio sia stato utile a molte persone certo sicuramente e dice Antonello che ci piace che è un gusto e che voglio che anche questo episodio sia utile per la radio escucha sì sì certo sicuramente e dici ci vuoi condividere rapidamente qualcuno dei tuoi prossimi seminari o eventi qualcosa che sì noi il mese prossimo a Londra il 13 aprile faremo un seminario sul suono con Sandro Spagnoli e sarà si chiama Cantando la melodia armonica della vita e un corso di espressione che lavora sull'espressione e su suoni curativi questo poi farò dei concerti con Christian de Lord di vibrational music saremo a Bologna il 20 marzo saremo a Tenerife il 25 aprile e in Italia a Milano e in Sicilia e in Italia a Giugno sì, ci comparte alcune delle sue prossime attività in avril, il 13 di avril va a realizzare un seminario con Sandro Spagnoli un grande amico e specialista del sonido un seminario dedicato al sonido, alla armonia alla conexione e al aprender a utilizzare la armonia del sonido e poi hai diversi concerti con Christian de Lord ora in marzo, in abril, in marzo in Londra vero? in marzo a Bologna in abril a Tenerife e a giugno Milano e Sicilia ok in marzo in Bologna, in Italia in abril in Tenerife e in maio sarà in Milano e in Sicilia a giugno va bene, ugual in giugno bueno su mio sito si trobano tutte le informazioni qui sotto voi vedere i dati per contattare a Antonello e per ottenere informazioni e vedere anche tutte le informazioni bene Antonello, grazie, grazie di cuore grazie a te un saluto a tutti un saluto a tutti e per la prossima settimana tendremo a Laura Lamatt con la qual parlaremo del sexto pilar de la concienza che è il pilar di causa-efecto per vedere come movemo tutto lo che e come sembramo tutto lo che viviamo e che platiciamo anche oggi quindi io ti agradezco grazie per creare juntos trama di luci che ten grazie 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 grazie